Radio Radicale, siamo con l'On. Maullu di Fratelli Italia per parlare con lui dell'attacco che la senatrice Segre ha ricevuto da parte di un'ex diplomatica, l'ambasciatrice Basile. Allora, io le volevo chiedere in che misura è rimasto essere fatto da questo attacco dove l'ambasciatrice ha detto che la Segre si commuove soltanto per i bambini ebrei. Insomma, credo che andranno alle carte legali. Allora, le volevo chiedere. Beh, intanto io credo che la forma migliore di solidarietà alla senatrice Segre sia arrivata al Presidente del Senato che proprio oggi ha avuto parole di grande conforto e di vicinanza rispetto a un fatto che credo sia assolutamente incomprensibile e altrettanto decisamente censurabile. Bene ha fatto la senatrice Segre e soprattutto il figliolo della senatrice a chiedere la ritratazione di queste frasi che sono totalmente ingiuriose nei confronti della senatrice ma soprattutto in generale per chiunque si trovi a doversi confrontare con questa tragedia che è rappresentata dal terrorismo di Hamas. E io credo che non distinguere esattamente ciò che accade in Israele e creare le condizioni perché poi ci si veda di fronte a tutta un'erba un fascio sia controproducente per i tanti palestinesi che chiedono giustizia e condizioni di vita assolutamente, come dire, eque e soprattutto per tutti coloro che hanno subito l'aggressione dei terroristi di Hamas. Ecco, io credo che questa differenza vada sempre marcata proprio per rappresentare la tragedia che sta accadendo in quel contesto medio orientale. E' rimasto sorpreso che una diplomatica, insomma, una brava diplomatica, insomma, di prestigio si è lasciata andare a queste considerazioni. Insomma, la diplomazia ci ha abituato ad altre... Beh, intanto diciamo che le avvisaglie c'erano già rispetto a delle posizioni che erano, come dire, meno equilibrate di ciò che uno si può aspettare da dei diplomatici. E queste posizioni hanno avuto, come dire, il culmine nelle dichiarazioni fatte, peraltro, contro un simbolo della tolleranza, ma direi anche del passato, che non vogliamo più ricordare e neanche e soprattutto vedere come la senatrice Segre. Pensa che si andrà avanti, all'impressione si andrà avanti con la denuncia oppure è meglio chiarirsi anche per evitare, insomma, di alimentare il clima di scontro? Ma io credo che ci debba essere, come dire, un atteggiamento di sano realismo da parte di chi ha offeso la tenatrice Segre e l'ho fatto con accuse totalmente infamanti e basterebbe, come dire, spiegare, ritrattare e soprattutto cancellare quel post ignovi. Ringrazio per la sua disponibilità, ringrazio l'On. Maullo di Fratelli d'Italia. Grazie a voi.